benvenuti a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare del recente recentissimo rilascio di ubuntu 1304 lo vedete qua sopra nella mia macchina virtuale che tra parentesi ho ancora scritto beta 2 in realtà l'ho ulteriormente aggiornato fino al giorno del rilascio comunque eccolo qua ho messo lo sfondo caratteristico del dell'animaletto che rappresenta che dà il nome a questa nuova versione di ubuntu e appunto anch'io come molti mi voglio cimentare in un in un video nemmeno troppo troppo approfondito su questa nuova versione di ubuntu ho detto come molti perché in effetti ci sono anche solo in youtube poi non so altri siti di video comunque solo limitando ci si fa per dire a youtube ci sono tonnellate di di video di recensioni già prima del rilascio post rilascio in inglese anche in italiano quindi andate su youtube cercate ubuntu 1304 troverete di tutto e di più nei quali spiegheranno tutte le nuove caratteristiche anche in dettaglio ecco allora io mi sono chiesto se valesse la pena che anch'io mi mettessi a creare l'ennesimo video nel quale spiego qualche caratteristica nuova di questo punto quando tanti altri l'hanno già fatto magari anche meglio di me e allora ho deciso sì di fare questo video che state guardando in questo momento ma più che incentrarlo su che sole icone nuove come vedete qui software center o del pulsante principale di di ubuntu della dash o che so delle prestazioni migliorate della memoria in meno utilizzata da da questa nuova versione di ubuntu adesso qui nelle varie recensioni tutti sono concordi nel dire che molto più efficiente più rapida qui vedete che purtroppo sto registrando il video sono in una macchina virtuale ed è molto lento a reagire non non fate conto della velocità di questa macchina virtuale per giudicare questa nuova ubuntu perché in realtà nelle varie recensioni sono tutti concordi nel dire che è stato fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione ecco allora passiamo a ciò che voglio dire io approfittando di questo rilascio su su ubuntu però partiamo pure da questa ottimizzazione dunque ho detto che praticamente unanimamente nelle varie recensioni si dice che questo ubuntu 1304 è più rapido e meno esoso di risorse e questo è dovuto che cosa è dovuto ad un lavoro di canonical che sta ottimizzando il tutto proprio perché come ben sappiamo ubuntu è destinato o almeno nelle intenzioni di canonical ubuntu è destinato a sconfinare dal desktop ovvero ad andare a funzionare su vari formati di apparecchi hardware che noi possiamo usare tutti i giorni ovvero i tablet la televisione gli smartphone e appunto anche il desktop ovviamente ed ecco che questo lavoro di ottimizzazione serve appunto per permettere poi ad ubuntu anche di funzionare egregiamente su apparecchi che possono essere anche sostanzialmente meno potenti di un pc da tavolo o di un di un notebook odierno insomma che sono piuttosto potenti già di loro quelli recenti intendo ecco quindi già questo lavoro di ottimizzazione è un obiettivo che canonica si è posta appunto per rendere meno pesante unity e quindi più fruibile anche per apparecchi diversi da un pc ed ecco quindi un primo obiettivo che si sta già come dire evidenziando con con questa ubuntu 1304 che maggiormente immagino si evidenzerà ancora con la 13 10 e successive ecco allora come ho detto piuttosto che parlare delle novità che più che altro sono dietro come dire sotto il cofano ecco perché proprio novità di utilizzo tante funzionalità evidenti al pubblico finale ovvero l'utente non sono poi così tante e degne di nota proprio visivamente a parte qualche che ne so ecco magari possiamo mostrare il dialogo di chiusura ammesso che esca eccolo qua il dialogo di chiusura che ha cambiato grafica eccetera eccetera però sono cose diciamo così non voglio sminuirle ma sono tra virgolette piccolezze rispetto a delle funzionalità che potrebbero essere più più importanti ecco non ci sono in realtà ubuntu 1304 è una continua evoluzione delle versioni precedenze e soprattutto un'ottimizzazione sotto il cofano ecco che in questa mia breve chiacchierata in realtà voglio parlare di un confine quello che io ho deciso di definire un confine che questa che questa versione di ubuntu stabilisce ovvero ubuntu 1304 è se vogliamo per così dire ancora come le vecchie versioni ovvero è basato su il server grafico x sul gestore di finestre compiz quello che ci fa anche gli effetti grafici tutti belli carini ed è basato quasi completamente diciamo su una base di gnome del desktop gnome ovvero con le librerie creato il desktop gnome creato con le librerie gtk dunque da quando è nato ubuntu è più di sette anni fa è nato proprio come distribuzione è basata su gnome o gnome o non so come lo volete chiamare in italiano in inglese dicono gnome quindi mi viene da dire gnome anche a me alcuni dicono gnome vabbè comunque è basato su questo tipo di desktop che è uno dei tanti è come c'è kde come c'è lxd eccetera eccetera quindi ubuntu è basata sul nome tuttora ubuntu 1304 è basato su una certa versione di gnome e appunto ho parlato di server grafico x perché anche quello è donna vita che fa da server grafico ovvero da gestore del video di quello che noi riusciamo a vedere a video e appunto gestore delle finestre vedo dell'interfaccia grafica compiz quindi è una versione che ancora coerente con il passato diciamo ubuntu 1304 però stabilisce un confine ho detto io nel senso che a partire da questa versione per esempio l'immagine di ubuntu 1304 l'immagine di sistema ovvero è tutto quanto c'è di software per per come dire per comporre ubuntu 1304 l'immagine è diventata comune per desktop e per il mobile ovvero per gli smartphone per i tablet per i pc adesso l'immagine è una ovvero quando viene compilato costruito ubuntu 1304 quella base di software di pacchetti compilati sono validi sono lo stesso punto di partenza sia per il pc che per il mondo mobile e questo è proprio l'obiettivo di di canonical come abbiamo detto di piazzare di permettere di installare di utilizzare gli uniti come interfaccia grafica ovvero questa che vedete in questo momento sui vari dispositivi ecco quindi questo capite cominciate a capire perché ho parlato di confine con ubuntu 1304 perché prima con la versione 1210 non era così c'era l'immagine la base software dei pacchetti per il mobile separata da quella per i pc con 1304 si è arrivati ad unire il tutto adesso la base di partenza la base di lavoro software dei pacchetti è unificata altro motivo per cui ho deciso di chiamare una versione di confine questa 1304 è che potrebbe essere francamente non so quando arriveremo in ottobre alla versione 13.10 quanto dei nuovi obiettivi di canonical saranno già integrati in questa 13.10 o meno ma potenzialmente potrebbe essere possibile che la prossima versione di ubuntu non presenti più come server grafico ovvero come gestore dello schermo diciamo così per semplificare il server vecchio server x ma il nuovo server mir che è un progetto specifico di canonical di cui ne abbiamo sentito parlare nelle settimane scorse con una ricezione più o meno positiva da parte della comunità e di sviluppatori comunque fatto sta che canonical ha deciso così di prendere una strada per conto suo che è costituita appunto da questo server chiamato mir pace in russo e che andrà a sostituire negli intenti di canonical il server grafico x che è uno server storico vecchio di decenni e voilà quindi questo potrebbe già essere operativo con la prossima versione di ubuntu inoltre appunto io ho parlato prima giusto per chiudere il cerchio visto che avevo visualizzato questa scheda quando parlavo di base software unificata fra mondo mobile e mondo pc ecco qua che gli sviluppatori hanno la possibilità con vari strumenti di creare applicativi applicazioni e programmi che funzionino indifferentemente sul pc e sugli schermi mobili quindi più o meno grandi schermi saranno degli applicativi che si adatteranno per conto loro il tutto è dovuto alla decisione di canonical di passare dalla base di creazione degli applicativi di gnome ovvero le librerie grafiche gtk alle librerie di sviluppo qt che sono un'altra famiglia di librerie grafiche di oggetti grafici per comporre gli applicativi usati da sempre per esempio dal desktop kd e e adesso appunto anche ubuntu anche canonica al corso ubuntu ha deciso di passare a queste librerie qt per creare i suoi applicativi che ripeto andranno sui telefoni così come sui vostri pc ecco quindi anche diciamo che appunto questo ubuntu 13 04 non ha ancora se non in anteprima tracce di questi programmi creati diciamo con un nuovo sistema nuovo per canonica l'ubuntu e naturalmente perché come ho detto le qt sono usate da sempre da kd e da quando è nato quindi diciamo nuovo per il nostro ambiente ubuntu che è sempre stato basato su gnome a questo punto ubuntu 13 04 da ubuntu 13 04 in avanti si tenderà ad abbandonare progressivamente quanto è sviluppato in su base gtk quindi librerie gnome per andare verso qt ecco che 13 04 appunto a parte qualche anteprima qualche repository ppa che ci permette di valutare provare già adesso anticipatamente qualcuno di questi applicativi scritti già in qt con le librerie qt non non presenta ancora non è ancora entrato in questo mondo nuovo della nuova strada di canonical con ubuntu quindi ecco perché chiamo appunto questa versione 13 04 una versione di confine perché ancora fedele al vecchio ma d'ora in avanti si lavorerà per portare sempre più il nuovo in ubuntu ecco che appunto io non so fino a che punto la 13.10 quindi la prossima versione di ubuntu di ottobre integrerà in quale misura applicativi o parti di unity scritte già in qt rispetto a il la vecchia via diciamo così con le gtk questo non lo so so che appunto d'ora in avanti si lavorerà sempre più fortemente con queste librerie qt e non più con le gtk il mira appunto detto server grafico quindi tutto ciò che ha a che fare con quanto noi vediamo allo schermo non la gestione del disegno delle finestre in quanto tali ma proprio la gestione l'interazione dello schermo della parte hardware dello schermo della scheda grafica eccetera eccetera anche questo magari già con ubuntu 13.10 sarà migliore non più il server x oppure ci sarà l'alternativa magari verrà installato ancora per difetto ubuntu con il server x però uno può scegliere di passare al mir non lo so vedremo vedremo come a che punto arriveranno gli sviluppatori e poi diciamo che a unire a comporre il tutto naturalmente io ho parlato di librerie di sviluppo sorte proprio per gli sviluppatori qt di server grafico mir sono cose mi rendo conto che per il mio canale sono forse un po complicate da spiegare e da comprendere e da acquisire ma il tutto sfocerà in che cosa sfocia in unity next ecco finora partire se non erro dalla versione 11.04 di ubuntu dove ha fatto il suo debutto unity unity si è chiamato unity e tuttora in ubuntu 13.04 stiamo usando e qui stiamo vedendo l'interfaccia grafica l'ambiente desktop chiamato unity unity e basta in realtà canonical sta lavorando a cosiddetto unity next cioè il prossimo passo unity next unity prossimo prima del rilascio di ubuntu 13.04 si parlava addirittura di già avere una prima versione di unity next direttamente già per difetto in ubuntu 13.04 in realtà le cose non sono andate così unity next è stato ritardato si fa così per dire o posticipato a ubuntu 13.10 ecco questo unity next implementerà una nuova unity che si adatterà appunto ai vari dispositivi come ho detto all'inizio del video quindi non solo per il desktop quindi non solo per i pc ma anche per i vari device ovvero per i tablet e per i telefoni grazie appunto alle librerie qt grazie forse anche al nuovo server grafico di gestione dello schermo probabilmente invece del server x e il tutto sotto che sfocerà in unity next appunto il quale unity next verrà appunto creato con queste librerie grafiche ma si appoggerà direttamente al nuovo server grafico mir chi lo sa può anche essere non lo so comunque ecco qua quindi il nuovo elemento che in ubuntu 13.04 non ha fatto tempo ad essere incluso e quindi a maggior ragione ubuntu 13.04 funge da confine ecco funge da confine perché poi in ottobre in autunno ci troveremo verosimilmente se non tutti e tre ma forse tutti e tre almeno in alternativa questi elementi nuovi questi pilastri portanti del nuovo ubuntu ovvero unity next il nuovo modo di sviluppo con le nuove librerie grafiche e il nuovo server grafico ecco quindi è per questo che ho voluto appunto parlare di rilascio di una versione di confine con questo ubuntu 13.04 13.04 dunque sarà a mio modo di vedere da quanto si legge nelle varie notizie in rete l'ultima versione diciamo così la vecchia maniera ecco per concludere questo video se volete comunque fare un viaggettino nella nuovo ubuntu senza doverlo installare o senza crearvi una macchina virtuale eccetera per almeno un minimo del giro del giro delle funzionalità lo potete fare direttamente sul sito di ubuntu nel quale sul quale potete trovare dei tour appunto dei piccoli come dire delle presentazioni delle funzionalità principali più utili di ubuntu su una simulazione ecco questa non è una vera installazione voi andate a questo indirizzo e troverete l'ubuntu tour in inglese vedete qui in basso a sinistra la lingua inglese c'è anche in italiano lo stesso tour il tour online di ubuntu eccolo qua in italiano vedete qui in basso a sinistra citato l'italiano vi lascio in descrizione questi link e qui cliccando sulle varie icone un po' qua un po' là dove questa simulazione vi lascia cliccare vedete che voi potete simulare l'utilizzo di ubuntu all'ultima versione ecco diciamo che io vi do i link sia della versione inglese che sicuramente più aggiornata sia della versione in italiano perché vi dico questo perché se guardate per esempio nautilus il file manager di ubuntu vedete che nella versione inglese di questa simulazione di questo tour di questa presentazione è veramente la presentazione dell'ultimo nautilus mentre questo sembra ancora quello vecchio quello attuale quindi diciamo che se volete avere nella descrizione nella vostra lingua in italiano usate pure questo tour che male non fa però magari se volete avere proprio anche la grafica fedele con le ultime icone vedete che l'icone di nautilus sono ancora quelle vecchie non quelle di ubuntu 1304 c'è qualcosa di non aggiornato nel tour italiano mentre in quello inglese originale vedete che anche le icone corrispondono e sono proprio confacenti ubuntu 1304 quindi fate voi io vi do i due link in descrizione decidete voi quale seguire in realtà poi vedete che potete fare navigare un po nel desto per vedere un po quali funzionalità vi mette a disposizione ubuntu senza installare nulla e ripeto questa è solo una simulazione non è vero quello che vedete è un click che potete cliccare in realtà è tutto simulato e voilà con questo concluso spero che questo diciamo recensione un po atipica e non proprio specificatamente sulle funzionalità vi sia piaciuta o vi sia interessata un saluto e alla prossima grazie a tutti